Ma avete visto mai niente di così pauroso? Queste urle vi faranno rabbrividire! Uuuuuh! Boh, il nuovo film di Luca e Danny vi farà tremare di paura prossimamente al cinema! Nooo! C'ero Stom. Ecco, è lo Stom! Noooo! Stom il nuovo film del mio film! La scuola guida, da settembre, al cinema.